Il titolo del mio messaggio questa sera è Lascia che Dio ti modelli Dio alla persona vicina a te, per favore, lascia che Dio ti modelli Gesù, vogliamo prendere dalle parole del Signore Gesù che Luca 15 ha detto Parlando di una storia che ci aiuta a capire Disse ancora Gesù, un uomo aveva due figliuoli E il più giovane di loro disse al padre, padre dammi Diciamo per favore insieme dammi, padre Padre dammi la parte dei beni che mi tocca Ricordatevi questa parola dammi E il padre spartì loro i beni Padre nel nome di Gesù io ti prego Signore che questa parola possa davvero scavare nei nostri cuori Ti prego che possa toccare chi ci segue da casa Chi è qui in presenza Signore Perché tu vuoi rivelare grandi cose alla nostra vita E noi ti chiediamo modellaci E nel nome di Gesù tutti insieme diciamo Amen Disse ancora, lo voglio rileggere Gesù disse ancora Un uomo aveva due figliuoli Il più giovane di loro disse al padre Padre dammi Diciamolo insieme Padre Quante volte abbiamo questa attitudine anche noi Padre dammi la parte dei beni che mi tocca Padre dammi la parte dei beni che mi tocca Diciamo la fede così come questo figlio piccolo l'ha interpretata Padre dammi E voglio dirvi tre cose che la fede non è La prima è che la fede non è prendere da Dio ciò che ci serve Ora Dio ci darà perché è buono Ci darà sempre tutto il necessario Dio ci sosterrà, Dio ci aiuterà Ma la fede lui non ce l'ha data Per prendere Ciò che ci serve La seconda cosa La fede non è usare Dio Per i nostri scopi e interessi C'è più reazione qua Dai E la terza cosa è che la fede può ottenere tutto da Dio Ma non sempre ciò che ottieni È ciò di cui avevi davvero bisogno Io personalmente tante volte Ho detto a Dio Ho chiesto a Dio talmente tanto una cosa Una cosa, una cosa, una cosa Che penso se si può dire Passatemi il termine Io ho fatto venire il mal di testa Me l'ha data Che Dio benedirà sempre le tue scelte Ma non sempre le tue scelte benediranno te Padre dammi, dammi, dammi Il padre lo ha fatto Ma che cosa è successo? Guardiamolo insieme Il figlio giovane pensava di sapere Cosa era il meglio per lui Ma la verità era un'altra A volte i nostri errori e sbagli Sono dovuti al fatto che non crediamo Nella nostra identità di figli Andiamo cercando nelle cose Quello che solo il padre ci può dare Lui pensava Se io riesco a ottenere da papà ricco Da mio padre La mia parte Risolverò i miei problemi In realtà Stando col padre Lui i problemi non ne aveva In realtà Stando nella casa Lui i problemi non ne aveva E' solo che a volte La nostra interpretazione della vita Soprattutto influenzati Da quello che è la società attorno a noi Ci prova A far pensare Che è lontani Dalle verità di Dio Lontani Dall'impegno della casa di Dio Lontani Da quello che il padre dice Saremo meglio Ma non ce ne rendiamo conto Che la nostra identità È di figli E ogni volta che ci allontaniamo Dal padre Non perdiamo solo la paternità Perdiamo l'identità Andiamo cercando Nelle cose Un senso di identità Dalla macchina che guidiamo I vestiti che indossiamo Le cose che possediamo Ma l'identità viene da papà Continuiamo la storia di Luca 15 Dal verso 13 Dice che Dopo non molti giorni Il figlio più giovane Messa insieme ogni cosa Partì per un paese lontano E vi sperperò i suoi beni Vivendo dissolutamente Quando ebbe speso tutto In quel paese Venne una gran carestia Quanti di voi se ne sono accorti Che i problemi Vengono sempre a braccetto Quando ha finito i soldi E arriva da pure la carestia Perché più ti allontani Dalla casa Più ti allontani da Dio E più ti perdi nei problemi E dice che Egli cominciò a trovarsi Nel bisogno Allora si mise Con uno degli abitanti Di quel paese Perché poi Tu ti allontani dal padre Finisci i soldi Arrivano le carestie E ti scegli pure Le amicizie sbagliate O il fidanzato Sbagliato A fidanzata Sbagliata Da un guaio Passi a un altro Viene così naturale Quando ti allontani Dalla casa del padre Finire nei guai Non serve una laurea Non serve impegno Avviene da solo E infatti dice Che si mise Con uno degli abitanti Di quel paese Il quale Lo mandò Nei suoi campi A pascolare i maiali Che amico Pensate che Per gli giudei Per gli ebrei I maiali erano impuri Magari Finché C'aveva i soldi Lui E quest'amico Facevano una bella vita Ma appena i soldi Lui li ha finiti L'amico L'ha mandato dai maiali Perché lui i soldi L'ha finito Ma l'amico I campi Ce li aveva ancora Il quale Lo mandò Nei suoi campi Non è che Gli ha detto Ha finito i soldi Pure te E ora te sostengo io E' un po' come Tra moglie e marito No? I soldi miei Sono nostri I soldi suoi Sono suoi L'ho detto Perché è uscita La mia moglie A voi Non è mai successo No? Alleluia E dice che allora Lo mandò Nei suoi campi A pascolare i maiali Ed egli Il figlio Giovane Scappato di casa Avrebbe voluto Sfamarsi Con i baccelli Che i maiali Mangiavano Ma nessuno Gliene dava Tu ti allontani Dal padre Finisci i soldi Entri in una carestia Amicizie sbagliate Finisci tra i maiali Quando tocchi il fondo La cosa migliore Che ti può succedere E che nessuno Ti aiuta A volte noi ci lamentiamo Perché pensiamo Io c'ero per tutti Quando c'evevo i soldi Adesso sto in bianco Non si vede nessuno La cosa migliore La cosa migliore Che ti può succedere Quando hai toccato il fondo È che Dio Indurisce il cuore A tutti Ti rende invisibile Nessuno più ti capisce Nessuno più ti ascolta Perché se qualcuno Gli avesse tirato Dei baccelli Un panino A quel ragazzo Quello non sarebbe mai Tornato dal padre E a volte anche noi Ci muoviamo Gesù si muoveva In compassione Noi ci muoviamo In pena con le persone In pietà E quando vediamo Qualcuno Che sta sbagliando Risbagliando Risbagliando Diciamo poverino Dai poverino Questo non so Non ci sta con la testa Fa un errore Dietro l'altro Aiutiamolo No Il migliore aiuto A volte che a qualcuno Gli puoi dare È fargli realizzare Che si è allontanato Dalla casa del padre Che ha iniziato A fare una scelta Dietro l'altra Sbagliata E che c'è solo una via Per ritornare a casa Ed è la via del padre Infatti Ciò che questo ragazzo Per questo ragazzo È stata la cosa peggiore In realtà È stata la cosa migliore Perché l'ha portato A ravvedimento L'ha portato A cambiare L'ha portato A tornare a casa Qualcuno dica casa La casa di Dio E il servizio È l'onore più alto Perché siamo protetti In casa Siamo nella pace Tenetevi forte Siamo nella ricchezza Del padre Perché finché restava Col padre Le ricchezze Non si consumavano Perché c'è una protezione Soprannaturale Nella casa del padre Non sono le tue forze È la sua forza Non sono le tue ricchezze È la sua ricchezza Non sono le tue capacità È la sua capacità Infatti guardate che bello Il verso 17 Ora rientrato in sé Ora rientrato in sé Ora rientrato in sé Vedete Ha dovuto toccare il fondo Per rientrare in sé È dovuto arrivare alla fame Per rientrare in sé È dovuto ritrovarsi solo Per rientrare in sé Se qualcuno l'avesse aiutato Non l'avrebbe aiutato Quando tu pensi di aiutare Qualcuno che sta sbagliando Facendogli le coccole Non lo stai aiutando Quando tu pensi di aiutare Qualcuno che sta peccando Sbagliando Criticando Sparlando Allontanandosi Dalla volontà di Dio Non lo stai aiutando Coccolandolo L'unica cosa che lo può aiutare È la verità Guardate che cosa ha detto questo Rientrato in sé Quanti mercenari di mio padre Hanno del pane largamente Vedete Perché a casa di papà Al pane non manca mai Ed io mi muoio di fame Io mi leverò Me ne andrò a mio padre E gli dirò Padre io ho peccato Contro al cielo E davanti a te Non sono più degno D'essere chiamato tuo figlio E ora cosa dice? Quando è uscito di casa Ha detto dammi Al ritorno cosa dice? Fammi Che cosa è cambiato? Fammi come uno Dei mercenari tuoi La peggior cosa Che poteva succedere al ragazzo Era che qualcuno I tirasse un panino A volte il fatto che nessuno ci aiuta E nessuno ci capisce È da Dio La storia Nessuno mi capisce Gloria a Dio Può essere che finalmente Ci capisci qualcosa Perché solo Dio sa come si è fatto E solo nella tua identità Vicino a papà Tu puoi ritrovare la forza Solo nella tua identità Alla casa di papà Tu puoi ritrovare il tuo destino Solo nella tua identità Scopri la verità Rientrato in sé Disse Torno da mio papà E gli dirò Fammi Prima voleva Prima voleva le mani di papà Quello che papà poteva dare Ola voleva solo la protezione di papà Quello che papà poteva fare Fammi Fammi un tuo seno Ho provato tutto Ho toccato il fondo Ho capito C'erano due figli in quella casa No? Abbiamo già ascoltato altre volte C'era il ribelle E c'era il religioso Il ribelle era questo qua Perché è scappato Ha toccato il fondo Ma poi è tornato E a volte Dio preferisce più E ci sbatti il muso Perché sa Che quando torni Non è più l'attitudine del dammi Hai l'attitudine del fammi Fai di me ciò che vuoi signore Anche l'ultimo Anche il minimo Il servo Il guardiano Il pittore Quello che serve Signore È meglio un giorno nella tua casa Che mille altrove Signore È meglio servirti Signore Nella tua casa C'è protezione Nella tua casa C'è benedizione Nella tua casa C'è pane in abbondanza È meglio stare qui Infatti tre cose Che cosa ha sperimentato Questo ragazzo Sono tre cose Che sperimentiamo Un po' tutti La prima È Dammi La seconda È Danni La terza È Fammi E noi pensiamo Che questi sono i peggiori Perché si sono ribellati Questi davanti a Dio Sono i migliori Perché il ravvedimento Davanti a Dio È di grande valore Infatti c'era L'altro figlio Il religioso Che è rimasto a casa Ma del papà Non ci aveva capito Niente Infatti ha detto Hai ammazzato un capretto Per questo figlio Che ha sperperato i tuoi beni E per me Vedete Per me Non mi hai mai Dato Era rimasto nel dammi Tutta la vita Viveva col padre Solo per dare 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 Come se Dio fosse un jukebox Metti la monetina Selezioni la canzone E il padre gli ha detto Ma sei da una vita con me Ma quello che è mio è tuo Non potevi prendertelo Sei un figlio del patto Sei nella casa del patto Quello che è mio è tuo Non serve nemmeno Che chiedi È già tuo Di diritto Sei nella casa A volte tutto quello Che devi fare È essere piantato Dove Dio Ti ha messo Ma la cosa importante È che capisci Il cuore di papà Il cuore di papà Quel ragazzo più grande Non aveva fatto i danni Non aveva fatto i danni Ma non aveva fatto Nemmeno il fammi Era rimasto Lì nel suo orgoglio Pensando di capire Tutto quello Che c'era da capire Infatti Mi piace dire Nel continuo della storia Dice che il fratello maggiore Sentì la musica Di festa E si arrabbiò Perché la grazia di Dio È un suono meraviglioso La grazia di Dio Al suono del perdono La grazia di Dio Al suono della riconciliazione La grazia di Dio Al suono dell'accettazione Infatti in The Passion Translation Dice che quando lui è andato Incontro al padre Stava dicendo Padre perdonami Ho peccato Il contro cielo contro di te Dice che il padre Nemmeno lo fece finire di parlare Gli si gettò al collo E gli disse Figlio Ora sei a casa Sei a casa Perché a volte Dio Ci lascia fare i nostri errori Dio ci lascia fare il giro largo Dammi Danni Ma lui sa che poi Il momento migliore della tua vita È quando arrivi col cuore Pronto a dire Fammi Fai di me ciò che vuoi Fai di me Usa la mia vita Per ciò Che vuoi Lasciati modellare da Dio Dio alla persona vicina a te Lasciati modellare da Dio Che cosa è successo in quel ragazzo? Un cambio di cuore Tutto ciò che ci accade Anche le cose brutte Dio le trasforma per il bene Lui non causa il male per cambiarci Ma nonostante il male Lui riesce a riprenderci e cambiarci Dio non ha maledizione per te Dio ha solo benedizione Ma tuttavia In quelle circostanze brutte della vita In quel divorzio In quel dolore In quella difficoltà In quel tradimento Lui riesce ad entrare Nelle tue vie storte E tracciare una linea dritta Lui riesce a fare una via Dove una via non c'è Lui riesce a essere Dove nessuno vorrebbe essere In quella fossa Quando quel ragazzo si è sentito solo Non era solo Perché Dio lo ha reso invisibile agli uomini Perché ha detto Se qui me lo vedono Gli danno da mangiare Me lo lasciano qui Lo ha reso invisibile Ha detto Nessuno lo deve vedere Nessuno lo deve aiutare È roba mia È roba mia Perché se nessuno lo vede Lui rientra in sé E lui ritorna da me Noi dobbiamo sapere Che anche nei nostri momenti peggiori Il nostro Dio Sa trasformare Il lutto in gioia Il dolore in un canto Nei nostri momenti peggiori Il nostro Dio Sta preparandoci Per ciò che di grande Lui ci ha promesso A volte noi Manchiamo ciò che ci ha promesso Perché ci spaventiamo Nel processo Quello che passiamo Quello che viviamo Il fatto che nessuno ci capisce Il fatto che nessuno ci comprende Nessuno ci aiuta Gloria a Dio L'altro giorno Una ragazza mi ha detto Ma sore Non puoi capire Che mi sta succedendo I pensieri Che mi bombardano Le difficoltà a destra Le difficoltà a sinistra Io me la sono guardata E io ho detto Gloria a Dio Gloria a Dio È solo quando arrivi Alla fine di te stesso Che lo puoi trovare Come dice quel canto E alla fine di me È lì che ti troverò Quello sapevo di pure Tu dovevi cantare A me fa un Sanremo Mia moglie dice no Troppe battute Lascia che ti modelli Lascia che ti modelli Dio non è lì a contare I tuoi peccati Dio non è lì a contare I tuoi sbagli Dio sapeva già Che avresti sbagliato Prima che fossi nato Dio non si preoccupa Della fossa Dio non si preoccupa Dei danni Dio si preoccupa Del cuore Dice se serve La fossa Per cambiare il cuore Va bene anche la fossa Se serve stare In mezzo a quelli Che ti tradiscono Ti abbandonano E ti feriscono Pur di farti ritornare Nella tua identità Nella tua realtà Nella tua chiamata Allora va bene Va bene toccare il fondo Perché solo chi tocca il fondo Si può rialzare Solo chi tocca il fondo Può ricominciare Dio non si preoccupa Troppo del nostro passato Lui è più interessato Al nostro futuro Wow Yes Guardate quest'ultimo verso Dai Secondo Timoteo 2 Verso 22 Dal 22 Dice così Fuggi le passioni giovanili Ricerca la giustizia La fede L'amore E la pace Con quelli che invocano Il Signore Con un cuore puro Evita inoltre le dispute E state attenti Questo è molto importante Evita inoltre le dispute stolte Insensate Sapendo che generano contese Il servo del Signore Non deve litigare E tutti diciamo Amen Una rivelazione sconvolgente Ma veramente Ci sono quelli che litigano con la Bibbia Li avete mai visti sui social? Litigano con i versi Litigano con le cose Il cuore del servo di Dio Deve essere mite Deve essere come Gesù A volte Quando non ti capisci Con qualcuno Dici va bene Dai C'ha ragione Va bene così Perché il servo di Dio Non deve litigare Ma deve essere mite Con tutti Capace di insegnare E paziente Deve istruire Con mansuetudine Gli oppositori Nella speranza State attenti ora Che Dio Conceda loro Di ravvedersi E di riconoscere la verità Che cosa ha fatto quel figlio Il padre non gli ha detto Sei un rinnegato Mai tradito Mai derubato Hai sperperato tutto Il padre Ha avuto quella pazienza Quell'amore Quella mansuetudine Quel desiderio Che dice Se questo mio figlio Torna a casa Gli mostrerò talmente tanto Di quell'amore Che si ravvederà Riconoscerà la verità E poi dice la Bibbia In modo che Rientrati in se stessi Escano dal laccio Che gli aveva presi Dal laccio del diavolo Che gli aveva presi Li aveva presi i prigionieri Perché facessero La sua volontà A volte nella vita Ci sono certi pensieri Che arrivano Bussano E ti vogliono guidare A fare delle scelte Sbagliate A fare delle scelte Che tu già sai Non sono con il cuore del padre E se noi le ascoltiamo Ci ritroviamo Ad allontanarci Ci ritroviamo In errori Ci ritroviamo A perdere tutto Ma voglio dirti una cosa Non importa in cosa Non importa in quale laccio Ricordiamo La balia La balia Perché il suo nome Il suo nome era Ci sono certe cose Rientra in te Rientra in te A volte Lascia che ti modelli È un tempo È un tempo grande Alleluia Fai di me ciò che tu puoi Signore A fare delle scelte Un tipo di cose E qui ci rupe E qui ti riserà E qui ti riserà